musica 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 vabbè hai c'è sto rumore? no devo fare... aspetta che ho fatto una cappellata cos'è sto rumore? tipo di crepitì o di fuoco? ehm adesso si bene mi ero dimenticato di spuntare adesso dovrebbe spuntare i bob eh ci costerà un po' di più però dovrebbe andare vediamo dai signor bob signor bob vi presento signor bob aspetta aspetta anch'io voglio vedere dov'è il signor bob? non spawner il signor bob dov'è? qual'è il problema? hai rotto il grinder ah ecco chi sono che fanno questo rumore sono i blitz ho un rimedio anche per questo wow attenzione vediamo? dove è il remote order? lo perso ah vedete ci vogliono 1100 tic per farlo c'è di lavoro 1100 di lavoro work è un po' più lungo vabbè però cos'è che drop a questo? armature di diamante ah beh allora allora ci sta aspetta 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 olè signore e signori il signor bob eccolo qui per voi ok ma è bellino ciao bob è bellino dimmi che lo uccidi colpo secco ah e poi ce lo dici anche in chat quando lo uccide ah fantastico comunque come wheeler ok andiamo avanti andiamo avanti e facciamo qua un altro auto spawner e ci mettiamo qua auto spawner tac mi sai che uno non è tostato qua ci mettiamo i spider si mettiamo i ragni e qua sotto ci mettiamo un bel tessera eh no anzi lo mettiamo sopra così stronzoni evitano di spawnare sopra cioè spawneranno uno stesso ma per culo ah beh ok via via scappa scappa z scappa perché sono larghi due ok si morite sciocchi no cosa cosa ho fatto ma perché era un piglinder perché era un piglinder così un altro bob è morto no ok fantastico e qua arrivano le nostre stringhe a go go proprio perfetto adesso oh 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 ci mancano ancora due guarda i blitz ma questi non muoiono raga devo fare la stanza più bassa ma secondo me ci vedono per quello vanno verso l'alto non so perché ma abbiamo lo stesso black e z il quale convertimento non l'hai messo però dove va 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 dove dove allora alter to spawner qui a mezzo la mette lei corrispondenza della border stone giusto e qua è vuoto eh safari pig mettiamo c'è anche ci vuole il fetch eh dai dai cosa hai bisogno poi li devo mettere così giusto uguale a quelli uguale a quelli uguale a quelli di sotto ok essenza e pem e gallina è l'alto poi devo mettere un po' di torce signori eh che non può non c'è un bobo è morto e bob è morto siamo già a tre comunque poi lo cambio questo qua il classic vi metto il dark glass davanti non credire ma ha già troppato un cappellino e un paio di pantaloni il diamante il diamante proprio non c'è ne fare niente però quelli enchant no però questa cosa dei blitz che vanno verso l'alto mi dà un fastidio vaga mettilo più in alto il grinder non fatemi incazzare perché sennò vi metto un grinder anche qua in mezzo e uno dall'altra parte eh infatti bravi no c'è più che altro non arrivano a range per ammazzarli tutti subito cosi 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 sposto l'auto spawner ma non mette range ma non mette range fagli un upgrade di team non c'è la non puoi col grinder no eh no è capo eh già fate un pazzo mentre nell'auto spawner oh donna oh donna oh donna basta cale biancino hai rotto un blocco eh non so eh quando mai eh quando mai non rompi blocchi colo automico in mano eh il vetro quello trasparente dammi il vetro trasparente dammi dammi il vetro trasparente dammi il vetro trasparente dammi i vetro stagione hai finito proprio allora c'è da ricraftarlo facciamo che non è normale così mettiamo auto spawner no e lascia stare deve essere in caso la facciamo al finiamo di un'altra delle spente ma non dovevo mettere tutti i mob e vabbè fai niente no 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 devo sentare questi che puoi mettere questo e voilà scappiamo scappate sciocchi e l'altro fai vai tu lanci sono davanti a te e olè devo fare una cosa sistemi sistematica qui per guardare come vanno giù perché una volta che vanno a terra poi riprende la converte in bello mi fa scappare a sessore perché non fa forse se lo abbasso di un blocco con il mio cuore più migliore assai io ho letto evito il seno è stato essenziale e per esempio so cazzo allora facciamo così se ne avete ancora non più facciamo così qui auto spawner mettiamo blitz e sopra così fantastico tanto questi stronzi quando escono da qui muoiono per forza e olè andai ah tranquillo z tanto quale la concludiamo il kudo olè sparisce ottimo c'è l'alignet clear glass qui ci vuole un altro auto spawner oppure il quarsiglass oppure il vibrant adesso anche i polli uovo dove polli polli combina qua chi cosa c'è l'uomo non c'è l'uomo e il black sta chester non fa l'uscita vale adesso la controllo comunque devo controllare tutte non ho più tessera aspettate un attimo tessera è riva super z che controllo 3 4 e spam e andiamo di essenzas queste sono le farm sistematiche signori poi ne faremo altre quindi non vi impaurate fate calmini oh i nostri maiali adorati i maiali questo video è contro come diceva? no vabbè non è che non tira fuori anche sta cesto non tira fuori allora siete dei mona io dico devo far sempre tutto io cosa? di fronte ai maiali le mucche di fronte ai maiali le mucche si adesso estrai estrai te l'ha già messa a posto non so perché non so come mai no non estrai no non è messa a posto ma manca un cavolo signori aspetta aspetta ah non estrai perché non è non è collegato all'under chest signori con l'impiantino qua quello devo fare tipo un coravo devo finire così 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 e ci mettiamo ho craftato quello che ho detto il coraggio del coraggio ma c'è l'impiantino qua aspetta aspetta ragazzo questo class qui qua davanti vale così dovrebbe arrivato qua andiamo merda il bug anche guarda la terra lo penso io adesso ci facciamo il drop out guardate la plate che c'è dead che fa schifo ah si è vero la plate nuova dead però non gli piace la polenta dice ma le ho detto le abbiamo detto perché eh è un po' un pacco ok ho pizzato un cavo a terra sono contento adesso quindi l'emblema ok cosa ci manca qui allora qui abbiamo messo maiali qua ci manca solo le mucche maiali porta fuori eh dai maiali ok si 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 dovrebbe portar fuori ok autospoon a non lo so quello non posso dire diamo qua dentro le un'altra gozze e rompiamo oh di star carmelo un altro bob è morto signori signori e senza ole 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 mucche che arrivano signore attenzione dovete sapere che poi arriverò qui nella vostra isola e mi riberò tutte le le porti che ho quelle che personaggi infatti i tuoi signori che abbiamo nella serie ok questi devo fare un sistema che li manda verso il basso e vengono vi sto aiutando sì qualcosa non capisco perché vanno verso l'alto gli stronzi state giù no state bravi e poi anche il grinder è un po' lentino vieni mettiamo perché non va via l'essenza comunque signori abbiamo fatto già 8 farm vedendo e scherzando abbiamo messo il blaze abbiamo messo il bop ragni qua non abbiamo messo niente perché non abbiamo ancora altre safari net ma bene cosa ci dobbiamo mettere lì lì ci dovremmo mettere non so che quale mob ma non ci viene in mente i krigal i crimson ma si a caldo ho sparato a caldo galline maiali ma qui è macrobido che ha io non ve lo consiglio e blitz e blitz e quindi siamo a posto signori nel prossimo episodio andremo avanti e faremo altre farm signori faremo altre farm quindi arrivati alla fine di questo episodio vi ricordo di passare dal canale in tutti i partecipanti di lasciare un like se il video vi è piaciuto e non fateci circoli andate a lasciare questo like che non vi costa niente noi ci vediamo nel prossimo video salutiamo il signor Z-Liner e il signor Deathmau passate alle pagine di facebook e fate quello che cacchio vi pare addios ciao ah si ah ah basta questa persona ciao ciao ciao